Qua alla 28esima edizione della Sagra dell'Uva abbiamo addirittura pensato un po' di Armonium. Vi li presento così iniziamo a conoscere anche i loro nomi. Giuseppe, Roberto, Cosimo e Fulvio. Così non vi lamentate perché lui ha detto così, scherzi a parte. Adesso li eliminiamo, potete farmi l'intervista. Gli Armonium nascono nel 73, nel 75 esce il loro primo long plane, dopodiché nel 76 partecipano a Sanremo con Stella Cadente. Nel 76 stesso esce il singolo più famoso degli Armonium, Wanted, la famosa canzone col fischio, da lì nacque il famoso filone dei Western Spaghetti. Nel 79 Bambina Mia, un successo di 8 milioni di copie scritte da Boncompagno e Bragardi. E nell'80 c'è il famoso Sanremo del Tidesidro dove uscì anche Pupo e dove poi gli Armonium diventarono il gruppo fisso di Pupo e hanno girato tutto il mondo. Poi vabbè, dopo c'è stato un piccolo, diciamo così, declino degli Armonium perché come tutti quei gruppi degli anni 70-80 sono un po' diciamo così... no, caduti, è brutto, però insomma si sono un po'... Allentati. Allentati. Fino al 2004 che si sono ricostituite, vedete, siamo stati in una clinica rigenerante perché ovviamente uno si fa i conti e dice come nel 76 così giovane. No, siamo stati in una clinica e con l'ora è riuscito male, con me è riuscito bene questo lifting. E abbiamo fatto un disco unice al mondo per Umberto Bindi con canzoni inedite e bootleg che nessuno ha. È uscito nel 2004 e poi abbiamo fatto altri dischi, tra cui l'ultimo è uscito l'anno scorso, Armonio con Lescio che dà chiude un po' tutte le canzoni, di Armonio vecchie e nuove. Ecco, questo è molto stringato ma penso che ho... È la realtà. Dici, cosa vorresti avere voi? Suonare, avere la possibilità di suonare il più possibile è la cosa più bella poi alla fine, soprattutto in posti come questo qua poi, questo è il massimo. Ecco, al di là del fatto di ribadire il piacere di essere qui a Castleforte e di poter riproporre quelli che sono i nostri successi storici, i momenti più importanti della nostra carriera. Signore, questa sera cosa ci farete ascoltare? Allora, vabbè, faremo tutti i brani degli Armonio più famosi. E allora vi saluto e speriamo comunque, a parte scherzi, di vederci magari, anzi che ci vediate a Sanremo, noi ci proviamo come sempre, ma arrivederci. Noi ve lo auguriamo comunque, ok? Grazie. Arrivederci ancora. Grazie. Grazie. Grazie.